Ciao, buongiorno! Bentornati sul canale, io sono Luigi, con me oggi c'è anche Melody e grazie ad RCE Foto che mi ha inviato questo materiale in prova potrò oggi provare anche un grandangolo, un 14mm f2.8 e nello zaino ho anche un teleobiettivo, un 50-140, ma ve ne parlerò più avanti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!